dato dal direttore di gara va proprio princicali la para manuello para che poi si distende gran parata del numero 12 adesso fa il centravanti dopo essere partito da terzino destro forse lui l'idea chiare non le ha ce l'ha battaglia che costringe un altro grande intervento corso e time out tutto pronto per il lavoro di questo calcio di punizione ma soltanto il fisico che arriva in questo momento la rincorsa di la ruffa il miracolo di galassi che salva il coltino di sabano con me conti controlla un pallone sul mancino poi apertura per scelati è sempre una buona idea e ortame invece metri per lui per impostare avanza il numero 8 tenta addirittura la conclusione e si supera del proposto a mano aperta contro due va a scontrarsi tiberti contro piede però già stoppato l'atletico whisper destro dalla gran distanza e questa è un'altra gran parata di salvati ora a disturbare la visuale di fusco parte pietrini bordata deviata miracolo incredibile di fusco